Cagliari per il settimo anno consecutivo qui alla Manifattura Tabacchi ospita il Salone dell'Innovazione in Sardegna, una fuccina, un laboratorio, un modo anche per far confrontare le imprese, le start up sul grande mondo dell'innovazione. Come ho detto in sala il modo migliore per prevedere il futuro è inventarlo e qua ci sono le persone giuste che possano aiutarci a trasformare la città, tra l'altro le città e gli ambienti urbani conosceranno in questi anni grazie al digitale e alle trasformazioni in ambito energetico una vera rivoluzione che non ci permette nemmeno di capire cosa potrà succedere, quello che vuole fare l'amministrazione, collaborare con chi ha idee, con chi porta progetti innovativi per costruire una città sempre più sostenibile, una città sempre più smart e lo vogliamo fare anche aprendo le porte degli uffici a tutte le aziende che vogliono sperimentare progetti innovativi.